Ma voi siete già tornati? No, no, aspetta, no, no, sono già tornati! Aspetta, no, aspetta che tornavo. E me l'avevi detto sì che tornavi? E che cosa? Buonasera, buonasera. Buonasera, anche Gianprato. Buonasera, buonasera. Ma dov'è Brando? Eh, no, purtroppo oggi Brando non c'è, ma... Ah, ok, ok. ...diciamo che oggi sono qui per un'altra intenzione. Cosa dimmi, dimmi, Rog. Siccome tu... Non vuol dire che hai già trovato un altro player, hai trovato? Ho trovato un possibile nuovo player, insomma. Però diciamo che ancora lo voglio testare, ok? Hai trovato un nuovo player? Perché vuoi testarlo? In che senso vuoi testarlo? Diciamo che non sono sicuro al 100% e se per te va bene vorrei vederlo giocare un po' sotto pressione. Ah, tu quindi hai trovato un nuovo player, però prima vuoi metterlo sotto tensione e vedere come gioco sotto tensione? Eh, i b-bot non sono per tutti. E cosa devi fare? Giocare davanti a me? Eh, direi che sia la cosa perfetta. Se sarà realmente forte lo saprei dimostrare anche davanti a tutte queste persone. Ah, e quindi se dovesse essere forte entrerà nei b-bot? Eh sì, bisogna meritarselo il post. Ah, allora fatevi una cosa. Invita questo nuovo player che sono curioso, invitatelo pure. Ah, ma ecco, prima era entrato in lobby. L'avevo visto prima, non pensavo fosse lui il nuovo player. E lui? Eh sì, ancora non ha la tag, perché come gli ho detto lo dobbiamo testare. Ah, è vero, valedetto. Ma lui, ma scusa, la glo non ce l'ha? Ah, non è ancora nel team, è vero? Non ce l'ha la glo? Eh, non è nel team. Se avessi entrato avrà anche lui la glo come voi? Certo, offerta da me. Ah, attenzione, offerta dal capo team. Tu oggi devi far vedere non solo le b-bot, ma i miei iscritti come giochi. Sei pronto? Sì, sì. Un po' più di entusiasmo, bro. Ai Tommy ti vogliamo più carico, però. Buona fortuna. Io, Tommy, spero in te. Spero che tu riuscii ad entrare nei b-bot. Il più schillato sono io qua. Oh, ti sei giamprato che lancia il jacuzzi. Tu giamprato stai a tetto, eh. Te lo dico, stai calmo. Ma scusate, ma non c'è nessuno, proprio bislacco. Ecco, vediamo. Bravo, giamprato, bella mira. Sinistra, giamprato, sinistra, sinistra. Sei lì, tu hai detto. No, no, giamprato. Il tiro, sono i player. Guarda, qua con la Vidigan. Sta arrivando Tommy, finalmente possiamo vederlo, roghe. Ok, vabbè, questo era un one shot, dai. Se sono più schillato, ci sarà un motivo. Oh, allora voglio vedere subito Tommy, via. Tommy, Tommy, ti ricordo giamprato. Già tre kill, tu ne hai zero, eh. Vediamo Tommy, sta prendendo Tommy. Ecco, è morto, ecco. E' ribasso Tommy da solo. Vediamo come se la cava Purge il nuovo membro. Oh. Eh, poi ha difficoltà, eh. Come fai da solo contro la squad? E così ti vuole pushare, ma solo di Deagle va. Ma è matto questo Tommy? Ti fa pressione? Ok. Oh, no, scusa, ma questo è più forte di giamprato. Questo lo voglio io nel team, oh. Come fa ad essere ancora vivo? Oh mio Dio. Questa è forte, Rogue, eh? Sì, sì, è bravo. No, ma questo lo voglio io. Scusa, scusa, questo lo voglio io. Ok, io qui dietro. Ripristina, bravo. Ah, peccato. No, basta. No, aspetta. Doveva rivederlo subito un'altra, subito un'altra, direi. Quindi, adesso aspettiamo prima Tommy. Ah, tornano a Borgo. Ok, ok. Le granate. Partito Tommy, partito. Quello che buscina di più sembrerebbe. Più aggressivo di giamprato. Eh, sì, sì. L'ho andato nel kill. Ok, giamprato fa una kill. Ok, bravo. Ok, eccoli qui. Partito Tommy da solo. Attenzione. Con la flint. Non è messo tanto bene a darmi. Eh no, eh no, è pazzo, infatti. Vai, Tommy. Grazie, grazie. Di flint, lo prende. No, questo è bravo. Capo del team, cosa inizia a pensare di questo Tommy? Ancora non l'ho visto, però... Ma come? Ah, ma questo pensavo fosse giamprato. Pure io. Pensavo fosse giamprato, non ci credo. Quella glow. Eh, è un film di vino. Ah, guarda come li ruba la kill giamprato da dietro. Sai che hai crashato, Tommy. No, hai crashato Tommy. Sei preso. Questo è miracolo. Miracolo. Ci fai scherzi, Tommy. Non ci piacciono questi scherzi, eh. Te lo dico. Venti, venti, venti. No. Sarà questo il nuovo membro, forse? Questo è fortissimo. Mi ricordo che sono due bisquod, eh. Quindi non è che sia così facile. Ve lo dico, ragazzi. Cos'è? Cos'è? Ah, col Batrang. Eh, però te stai giocando bene, eh. Stai giocando bene. Mi stai riprendendo. No, scherzavo. Eh, scherzavo. Aspetta, vediamo come gioca in solo squad ora. Vediamo come gioca in solo squad. Vediamo, vediamo. Parte. Si lancia. Uh, lo sta prendendo. 93. Oddio. Oddio. L'ultimo. No, vabbè. Uh, no, vabbè, Tommy. Secondo me può entrare. Poi non lo so. Uno le ha tolto un po' di shield, però ha preso nella caduta. Ok, falò. Ma come fa, poverino? Quello poteva trappare. Non aveva più trappole. No, cavolo. Ah, risperino. Secondo me può fare tanto di più, Rog. Ok, siamo Tommy partito. Faccio semplarmi. Bruttissimo, Rog. Ok, l'ha aiutato già Prato. L'ha aiutato lui. Forse se ero già in squadra potrebbero anche farcela. Non l'ho visto cosa ha fatto già a Prato. Eh, è bello visto. Uh, 76 in testa quello, poverino. Non c'è più vita. Impulsi, impulsi. Guardi, pulso. Ma non c'è Arby. Ma come fa con la pistola? Vai pazzo? Uh, bravo, Tommy. Quello vuole, vediamo, col tracking, come si comporterà. L'ha distrutto. Oh, finalmente un po' di gioco di squadra. Era che ora, eh? C'ha tanto potenziale questo Tommy. Ha potenziale nascosto. Che dici? Vediamo se in questa partita, diciamo, ci sorprenderà. Ma già ha fatto vedere che la mira non gli manca. Eh, non gli manca, no. E forse ora stanno anche giocando in squadra. Perché saranno nello stesso team. Quindi, eccetera. Occhiano lo sniper, ragazzi. Occhio. Sali su. È andato lui, Tommy. Seguilo. Sopratelo su, l'è andato. È un bot. Ok? Uno per, uno per. Vediamo Tommy come se la cava. Occhio, c'è un altro. Ma chi è che c'è Kina? Una hit. Occhio. Ok. Ma quanti sono? Ma sono troppi. White, white. Mi curo, mi curo, mi curo. Bravo. L'ho ucciso un altro, Tommy. Dove ne sono accorto? Ok. Ma Toby è partito a mille. Ma quella di Eagle. Ok? Nella piramide. White, white, white. C'è un altro, occhio, eh. L'ho ucciso. Occhio, c'è un altro. Ne arriva un altro, eh. Si fa un cellino. Sì, perché Tommy non ha più vita. Ma raga, ma sono altri questi, eh. Ma ci sono altri. Io me la darei. L'ho ucciso. Bravo, Tommy. Ah, l'ho ucciso, l'ho ucciso? Sì, uno l'ho ucciso. Però c'è un'altra gente. Stato uniti, stato uniti. State molto uniti. Oh, raga, guarda, vuoi vedere il gioco di squadra. Sì, sì. Vai, facciamo kill, facciamo kill. C'è troppa gente, no? C'è troppa gente. Come fate qui? Ok? Partito, Gianprato. Bravo, Gianprato. Bravo. L'ho ucciso Tommy. Cosa stiamo vedendo? Ok? Non la vita. Quattro gente c'è, raga. Capo del team, cosa ne pensi? Mamma mia. Ah, qua stanno giocando molto bene. Quattro? Gianprato lo uccide, bravo. Eh, vabbè, ma come fa senza vita da un po'. No! Sì! Lo vuole passare. Lo vuole pushare. Sì, lo vuole pushare. Non l'ha preso? Siete in due, raga, eh. Dietro dietro d'occhio. No! What? No, full team. Scappa col rampino, Tommy. Partito? No, perché col R? Peccato, sbaglio il switch. Box fight. Le mettono... Come ha fatto a mettere quella scala? Questo qui lo dite? Arrivare lì. Però deve mettere, bravo, eh. No! Eh, te l'ha fatta. Questo era forte. GG. Questo sembrava scarse, invece... No, ma guarda quanta vita aveva. Non ci credo. Ottimo. Ok, secondo me la salva Toby qui. Gia Prato, ma che stai a fa'? Oggi ci sta deludendo. Oggi Gia Prato ci sei davvero deludendo, eh. Ma se il predshot fa... Se il predshot fa questo ragazzo... Ma se... No, scusa, scusate, raga. Ma questo fa sempre il predshot. Questo è un po' più schillato di me. No, sì. Gia Prato... Spero se è un po' invidioso. Spero se è un po' invidioso, Gia Prato. Cioè, tu sei morto e lui li ha uccisi tutti. Ci sta convincendo. Vabbè, Rog, cosa devi fare di più, poverino? Scusa, eh. Per me è uno muore. Occhio uno col cecchino, no? Vai, Tommy. Faccio vedere con la R. Oh, ok. Oh, è finalmente il capo del team. Guarda, guarda, una hit è morto. Ok. Eccoli sotto, eccoli lì. Trovate l'ultimo team, vai. Gia Prato sta andando, eh. Andate insieme. Rog, sono partiti, eh. Vai. Quattordici. Dieci. Uno è morto, bravi. Bravo, Gian. Ma guarda, guarda, scappa quello. Lacerato. Ok, coordinato con la R. Importante sparare insieme. Gian pega via, così direi che si cusciano e si vede questa partita. Ma no, quello scappa con l'overboard. Favamo intanto pesa l'altro. Vai con lo score. Oh no, che cosa fa questo? Ma cosa fa? Perché si è nascosti in una capanna? Guardalo, vabbè, poverino. È capitato. Guarda, ancora! Questa è la nuova tattica. Eh, la tattica è... Piccolato. Ti ruba tutte le kill, tutte te le ruba. Ma che tric, Gian Prato, che stai sempre per morire, te. Ma quando? Adesso. Ma c'è piccolata. Eh, la scusa della piccolata. Eh, guarda, intanto Toby fa le kill, Gigi. No, raga. Ride. La vince e ride. I video vi risci qui. Rog, per me... Aspetta, prima chiediamo al parere a Gian Prato. Gian Prato, come ti è sembrato Tommy? Può entrare nei B-Bot? Tommy, sì. È molto skillato. È una pora mira. Per me può entrare. Avrà la skin glow e il tag B-Bot? C'è. Eh, diciamo che a me mi ha quasi convinto, però... Ti ha quasi convinto, però... C'è proprio io qua. Vorrei sapere pure l'opinione dei... Diciamo dei tuoi iscritti. Vuoi sapere, giustamente, l'opinione dei miei iscritti. Alla sicurezza, 100%. Dovete dirmi tutti sì o no. Tommy merita il posto nei B-Bot. Io direi che ci fermiamo qui. Non dico nient'altro. Guarderemo tutti i commenti, ok? State pronti, eh? Bene? Vai, vai, vai. Ok. Dai, bella. Raga, no, no, niente bella. Guarderemo solo i commenti. Lo salutiamo le acche. Finisci con il video. Ciao.